Come si è infortunato? Stiamo facendo una modulazione all'interno della ditta, su un macchinario. Io mi hanno proposto di fare questo lavoro, io nonostante le mie rimostranze, loro hanno fatto un richiamo al canto e dicevano, vabbè, si fa così e basta. Dopo un quarto d'ora che stavo facendo questo lavoro, avevano un'esplosione di fuoco, ho visto una palla di fuoco, ho preso il fuoco tra tutti i vapori, la benzina che avevo io, sia in mano che per terra. Poteva finire anche molto peggio, come tante altre volte in Umbria e in Italia. Quella di Alessandro, è un nome di fantasia, è una storia che racconta il dramma degli incidenti sul lavoro molto meglio dei numeri che escono ogni anno. Un mondo invisibile, fatto di mancate denunce, omissioni e silenzi obbligati. Quando vorrei portarmi a pronuncio corso, penso che le regalavano in crocea rossa. Mi hanno sbattuto la macchina, mi hanno portato direttamente a pronuncio corso con la macchina di un privato, un altro amico mio. Anche per questo i numeri sono in calo. Molti preferiscono non denunciare affatto. È il principio stesso che premia in termini fiscali le aziende dove non avvengono infortuni in un meccanismo molto simile a quello delle assicurazioni auto. L'INAIL ha un sistema, diciamo, cosiddetto bonus-marus, per cui se un'impresa registra meno infortuni sul lavoro ha anche il vantaggio di pagare un premio assicurativo ridotto. In alcune imprese, a volte, malattie professionali, a volte anche infortuni, vengono registrati semplicemente come malattie e non registrati per quelli che effettivamente sono. Secondo il direttore dell'INAIL, però, si va nella direzione giusta. Ma lui stesso ammette che il calo degli infortuni dipende in parte dall'alto numero di chi il lavoro non ce l'ha, perché l'ha perso. È in dubbio, questo lo abbiamo detto e va riconosciuto, che una quota parte, magari non significativa, magari al 50%, del decremento e anche effetto, oltre che delle politiche di prevenzione praticate, anche della crisi economica che caratterizza il paese e anche questa regione. La realtà quotidiana racconta di chi continua a farsi male e a morire. Una strage silenziosa fatta di persone che chiedono soltanto di poter lavorare.